Ciao amici e amici, un nuovo video del mio canale di Nipop, un mio speciale Vedi che ho dovuto applausare con il manito, un applauso, un applauso Siamo in gusto, un peccato, un peccato e un peccato, un peccato Applauso Natti, Natascha, Rafi, Pina e Suica Vida Isabella E tutta la famiglia assiste alla graduazione del suo irmano, il più piccolo, Cinghi E qui si vede come si vede la graduazione in vivo La reazione di tutti e anche la reazione di Vida Isabella La ricadena Tirafi, la sua irmana di Cinghi E applausano E come tutti stanno felici per questa graduazione E come reazione di Vida Isabella E come si vede quando si vede la graduazione di Cinghi Al principio si aburre, ma poi vedremo lo che va a fare E come vedremo la graduazione di Cinghi come si è felice Vida, mamma riva, Vida E poi Vida Isabella stanno con Natti E stanno tutti felici e applausano per Cinghi E qui si vede la divertida cara che viste a Vida Isabella Eeeh, applauso Applauso E anche grittò un pochino, ma è molto calma e felice con loro A asistire a questa graduazione molto speciale A amici e amici e amici e ganti meravigiosi e meravigiosi Per vedere questo video fino a qui Se ti ha piaciuto dare un like o commenta Suscrivete a mio canale in hip hop E grazie per vedere i miei video e vedere questo video E se vuoi, ti ricordo di attivare la campanita E quando arrivi un nuovo video lo puoi vedere in seguida qui E ora ci vediamo molto pronto al prossimo video Sempre qui a mio canale Tengan un lindo giorno e ci vediamo al prossimo video Un abrazo a tutti E ci vediamo alla prossima Ciao